Fogliano Abbiamo giocato benissimo, hanno fatto una rimonta che meritava il preggio, per caso veramente comprici pure in fase pro-capitrale abbiamo perso una giù, però si meritavano un bel preggio. Finalmente con c'è capito i schemi, un gioco che serve per giocare a calcetto e per forza scominci a muovere. Benissimo, comunque è stata una bella partita, questa è una cosa importante che comunque dà onore allo sport. La forza deve notarci in quel collo, quindi se non c'è un carattere, è una cosa positiva per il campionato. Benissimo, grazie tante.